Oltre due tonnellate di sigarette di contrabbando per un valore di centinaia di migliaia di euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Giuliano in Campania. È avvenuto a Casavatore precisamente in un deposito di circa 200 metri quadri. Cinque persone tra 33 e 48 anni sono state arrestate perché sorprese mentre caricavano le bionde a bordo di tre furgoni ed un autocarro per avviare la distribuzione sul territorio. Il deposito e di veicoli sono stati sequestrati, la merce era stata ripartita in confezioni da 5 kg ed era già pronta per essere immessa nel commercio. Considerato che sul mercato clandestino tali sigarette vengono generalmente cedute ad un prezzo di circa 3 euro rispetto ai 5 richiesti nelle regolari rivendite, il valore del prodotto sequestrato si aggira intorno ai 250 mila euro.